Sono l'indagato più tranquillo del mondo, quindi non ho nessun timore, so che chiunque stia leggendo le carte sta maturando la constatazione che per me era evidente, che quello che ho fatto l'ho fatto nell'interesse pubblico e del Paese, 5 Stelle hanno preso i voti che avevano preso le ultime elezioni regionali, è chiaro che quello dei 5 Stelle è un voto più politico che amministrativo, qua ci sono le preferenze, ci sono i vecchi capi bastone, ci sono quelli che hanno cambiato 18 partiti, quindi è chiaro che non è la competizione a loro più confacente, però non entro nel merito delle scelte altrui, quindi posso solo dire che in questi mesi ho trovato una squadra di governo coerente, leale, competente, in Guigi Di Maio una persona seria e anche un amico al di fuori delle scelte politiche, però le loro dinamiche interne mi aspetta a me osservarli o giocarle. Se riesco già oggi mi vedrò sia con Luigi Di Maio che con Giuseppe Conte perché la settimana è abbastanza intensa. è abbastanza intensa. è abbastanza intensa. è abbastanza intensa. è abbastanza intensa.